salve a tutti nel tutorial dove vi spiegavo come realizzare questo tipo di incastonatura vi avevo detto che vi avrei fatto vedere come poter utilizzare questo semplice modulo per realizzare un bracciale in realtà è un'idea molto semplice questa non è un vero e proprio tutorial per fare magari dei bracciali utilizzando dei moduli incastonati quindi non soltanto per questo ma potete utilizzarla e un po per tutti i moduli incastonati che avete dovete semplicemente fare nel mio caso ne ho fatti tre poi se sono più piccolini magari ne fate anche 5 come come preferite quindi tre moduli poi facciamo 5 perle queste sono da 8 mm e sono occhio di gatto però cioè potete utilizzare quello che volete cipollotti potete anche magari utilizzare in questo modo cipollotti e perle insieme perle da 6 bicono quello che preferite quindi appunto le andiamo ad inserire negli anellini e scusate nei chiudini e facciamo i cappietti io sono abbastanza negata per fare i cappietti con gli anellini sono vengono tutti storti c'è una delle cose proprio che non so assolutamente pare e quindi facciamo due da sole e due con attaccato un pezzettino di catena che saranno quelle che poi andranno ai lati quindi semplicemente ci procuriamo una una chiusura degli anellini che ci serviranno per agganciare i vari moduli diciamo e io ho preso anche un chance allora il modulo realizzato con l'incastonatura che vi lascio vi lascio il link nell'info box quando terminiamo praticamente l'incastonatura andiamo a fare dei cappietti con 7 15 0 in questo punto e nella parte diametralmente opposta allo stesso modo quindi lo facciamo per tutti e tre i modulini in modo che abbiamo degli anellini dove poter andare appunto ad agganciare l'anellino e la perla allora io non aggancio direttamente la perla con il chiodino nel modulo per il semplice motivo che viene più rigido in questo modo mentre mettendo l'anellino tra la perla e il modulo il bracciale risulta più morbido si muove diciamo di più ma è semplicemente un'idea uno spunto da utilizzare poi fate come più vi piace come siete più comodi e quindi allora uno cerco di farlo insieme proprio perché io sono abbastanza negata con le pinze tra l'altro ho preso questa conica invece dell'altra vabbè allora quindi apriamo l'anellino lo teniamo fermo con la pinza e andiamo ad agganciare quindi l'anellino al alla perla e e dall'altro lato agganciamo il modulo andiamo ad avvicinarli e ok quindi questo è fatto lo ripetiamo anche per gli altri non ho agganciato prima la la chiusura per il semplice motivo che ho agganciato un pezzettino di di catena da una parte e dall'altra ma non so la misura precisa praticamente del bracciale una volta terminato quindi che cosa faremo io prima aggancio tutti i vari moduli e poi prendo la misura tolgo la parte di catena che sicuramente mi rimarrà in più non la prendo prima la misura non fa non cerco di farlo preciso prima perché non so mai la la misura precisa che otterrò una volta agganciati con gli anellini i vari moduli insieme come vedete io a parte già con la telecamera sono 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 sempre un po rallentata nei movimenti ma poi veramente c'è l'assemblaggio non fa per me soltanto che mi piace miscelare questo queste due tecniche quindi la tessitura e il e l'assemblaggio perché a mio avviso resta praticamente un uno stile più più pulito ecco rispetto magari a a farlo completamente in tessitura e aggiungere magari poi le perle e rimane molto più rigido in quel modo in questo modo come vedete si muove molto quindi a modo anche il rivoli di di prendere meglio la luce guardate scusate ma ho la luce da questo lato e quando mi metto a lavorare di vi copro completamente la la visuale e però come vedete si muove si muove di più quindi adesso proseguirò aggiungendo e tutti i vari moduli allora come potete vedere io ho terminato praticamente di assemblare il tutto e ho aggiunto quindi la chiusura e qualche anellino e un chance tra l'altro questi questi moduli secondo me sono molto carini anche per essere montati con in una collana perché rimangono un po o valeggianti un po cicciottosi e secondo me sono molto molto carini anche in quel caso comunque questa vuole essere semplicemente una piccola idea molto veloce e ditemi se vi è piaciuta e se vi sono piaciuti i tutorial sia per questo da 14 mm sia per quello da 13 scusate da 12 mm vi lascio i link qui sull'info box per la prossima settimana perché questa settimana non riuscirò a prepararli preparerò anche qualcosa per arrivoli da 16 e da 18 come mi è stato chiesto e grazie a tutti e ci sentiamo presto magari con qualche altra idea veloce da realizzare ciao ciao ciao